Il governo con l'avvicinarsi della fase 2 continua a pensare ad allentamenti sulle restrizioni attuate in questi mesi di emergenza. Questi cambiamenti molto probabile verranno resi attivi anche sull'autocertificazione, che è ormai diventata un'abitudine per la maggior parte degli italiani. Infatti sul tavolo delle ipotesi del governo c'è la possibilità di non rendere più obbligatoria l'autocertificazione per spostamenti nel proprio comune e fuori dal proprio paese di residenza e quindi di uscire senza dover giustificare il motivo della propria uscita. Però dovrebbe rimanere obbligatoria per quanto riguarda gli spostamenti regionali, che sicuramente saranno consentiti dopo il 4 maggio. Per averne la certezza non resta altro che attendere le disposizioni ufficiali che arriveranno dal governo quando sarà pronto il piano per la fase 2.